Ciao a tutti ragazzi sono Termi, benvenuti in questo nuovissimo video della serie di Arrowbeat Oggi vedremo com'è stata prodotta No Stupid della Dark Polo Gang con Boro Boro e Samuel AJ Direi che possiamo cominciare con il precocio utilizzato questo suono di Nexus AR Good Night Pels, ovviamente disattivando l'arpeggiator E la melodia è questa qui La stessa melodia viene poi suonata un'ottava sotto in questo modo E come ultima cosa abbiamo un piano sempre di Nexus che è questo qui E2Hit Mafia Piano 1 Che si aggiunge solo per il ritornello Passando di Rams abbiamo uno snare, un classico Luger snare Per lo snare ho dovuto fare più pattern perché è pieno di roll e di snare che vanno verso il basso in questo modo Per quanto riguarda le YET ho utilizzato un classico 2 step Poi abbiamo un kick molto classico Per le YET ci sono due sample diversi, il primo è questo E il secondo è questo Per la intro ho applicato un grosso beat con un transgate in questo modo One bit gate A YET poi ho aggiunto questi roll che vanno verso il basso Solo in questo punto in cui si attiva insieme a YET anche il transgate di grosso beat In questo stacco prima del ritornello poi ho aggiunto un cutoff classicissimo Sullo snare, sulle YET e anche sulla melodia E sia lo snare che gli YET sono andato a pitcharli verso il basso in questo modo Qui poi ho aggiunto un altro snare roll Alla quale ho modificato sia velocity che fine pitch in questo modo Nel ritornello poi ho aggiunto un open head in questo modo Il tutto insieme viene così Alla quale Alla quale Anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video Vi ricordo come sempre di iscrivervi e lasciare un piace se il video vi è piaciuto Inoltre sul mio canale trovate due playlist Una dedicata ai tutorial CFL Studio E una dedicata agli altri video di questo genere Bella e al prossimo video Ciao 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 Ciao